Ecco una punizione a favore della Virtus per l'atterramento di Teddy Mata, numero 11, su c'è il nostro capitano, adesso si accinge a battere la punizione, il Vita ha predisposto la barriera, i nostri ragazzi aspettano il fisco dell'arbitro per... Ecco, batte Mata, è Yaming, è Yaming proprio, un pallone che stava entrando all'incrocio dei pali è stato ripreso da un calciatore, da un difensore di testa.